Salve a tutti ragazzi, un saluto da Sparky, benvenuti in questo nuovo video, video ragazzi vi giuro spettacolare da guardare tutto fino alla fine, dove faccio ben 14 kill e supero i 3k di danni. Non l'ho mai fatto prima d'ora, oggi mi è capitata la prima volta, sono super super emozionato per questo traguardo. Mi raccomando, chiedo soltanto di lasciare tanti like, condividere il video con i vostri amici e iscrivervi al canale. Non mi resta che augurarvi buona visione e noi ci becchiamo al prossimo video. Quantifico l'abilità con prove inconfutabili. Ho visto di tutto, ma mi sorprende. Il destino sarà dalla nostra parte, guerrieri. Ecco il campione. Miravidioso. Quante cavie disponibili. Sono la Jumpmaster. Per questa vita. Atterriamo qui! Ci siamo, preparatevi. E' un'altra parte. Se c'è qualcosa di grande. Sparatevi. Tattatevi un po' di gioco. Sto superando danni. Trappola posizionata. Attenderò paziente. Variabili. Due squadre diverse ci attaccano. Siamo sottotiro. Sto volto a sbattare. Mi hanno affattato. Sto sottotiro. Abita non so tanto. Non riesco a un'altra linea vita. Oh, fratelli del preghetto. Ci siamo rimasti solo a tutti. Il campione è stato di morto. Appartono tutto. Grazie per la visione! Ho preso il banner del nostro compagno di squadra. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Attenzione, anello in chiusura! Non sapevo, possiamo farcela! Grazie per la visione! 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 Il livello è vicino, un altro aiuto. è stato nominato